Siamo qui a Coleferro con la delegazione del Biocido Tour. Il Biocido Tour è un toxic tour che l'associazione a sud col centro documentazione su conflitti ambientali ha organizzato all'interno delle attività del progetto IGJOLT. Quindi stiamo qui oggi nel Lazio e domani in campagna per visitare alcuni dei posti più contaminati in Italia dove le popolazioni soffrono di quello che noi chiamiamo il Biocido, cioè l'esposizione sistematica delle popolazioni alla contaminazione ambientale. La delegazione è composta da ricercatori e attivisti provenienti da tutto il mondo, dall'Africa all'Asia, passando per l'America Latina e l'Europa e ci accompagnano oggi e domani tutta una serie di giornalisti per seguire insieme a noi quanto sta avvenendo e gli scambi che si stanno facendo tra ricercatori e attivisti qui in Italia e nel mondo.